Adesso chiamiamo a relazionare il professor Giovanni Vento, direttore dell'Unità Complessa di Neonatologia, sul tema che abbiamo anticipato, le cure palliative post-natali. Buongiorno a tutti, ringrazio Pino per l'invito e per l'organizzazione di questo interessantissimo incontro. Ho seguito con molto interesse le relazioni che sono state fatte dai colleghi, dai giornalisti. Io sono neonatologo, quindi parlerò delle cure palliative post-natali, prendendo spunto da quello che l'OMS, come le definisce cure palliative pediatriche neonatali, come l'attiva presa in carico globale del corpo, della mente, dello spirito, del bambino e che comprende il supporto attivo alla famiglia. Diciamo che la differenza tra curare e prendersi cura è quello che anche nel linguaggio anglosassone si è passato dal to cure, cioè curare, al to care, prendersi cura, che è un po' diverso anche rispetto alla canzone di Battiato, ma è così. Cioè curare non è solo curare con farmaci, ma prendersi cura di tutto. Tant'è vero che le cure palliative non agiscono sulla causa della malattia, cioè non è una terapia eziologica, ma sulla rimozione dei sintomi, mirando a garantire al neonato e alla sua famiglia la migliore qualità della vita, il sollievo dalla sofferenza. E al tempo stesso è importante, come è stato detto anche dai precedenti colleghi, che le cure palliative non sono, non si identificano solo con la cura della fase terminale e per noi intensivisti sarebbe un controsenso per chi come noi e come me lavora in terapia intensiva nel Natale, pur comprendendole, le cure terminali, nelle cure terminali. L'OMS definisce anche le cure palliative come un approccio olistico, in pratica noi intendiamo un intervento integrato, in grado di sfruttare i punti di forza delle diverse discipline. L'abbiamo sentito fino ad ora, non lavoriamo mai da soli, lavorare insieme, ognuno con le proprie conoscenze, arricchisce l'altro. Da un punto di vista legislativo noi operiamo all'interno di una legge che è stata promulgata più di dieci anni fa, la legge numero 38, che parla delle disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, che è una legge. Purtroppo da una survey condotta qualche anno fa, che vedete alla vostra destra, si vede come esiste una grossa eterogenità sul territorio nazionale. Le due colonne evidenziate in rosso riguardano, la domanda era se ogni regione ha delle equip dedicate per fornire ed erogare cure palliative e se esiste un'assistenza domiciliare specialistica. Vedete che le percentuali sono molto, molto basse ed è su questo che forse a livello anche politico occorrerà lavorare, perché non si può parlare di una legge che è perfetta e non avere poi gli strumenti per realizzarle, visto che abbiamo detto che le cure palliative non sono cure terminali. Non vuol dire prendersi carico di neonati e poi bambini complessi. In particolare, per quello che mi riguarda e che ci riguarda, le cure palliative e neonatologie identificano quattro categorie. I grandi prematuri, i neonati affetti da severa morbidità neonatale, i neonati affetti da sindrome polimalformative, l'ho già detto in altre occasioni, parlare di malformazioni è qualcosa che dovremmo cambiare il termine, parlare di neonato malformato non è una cosa bella, sarebbe importante definirlo come neonato con patologia complessa. Patologia genetica, cromosomica, affetto da malattie rare, ma anche in sé per sé le cure palliative devono essere erogate a tutti i neonati che per le loro caratteristiche richiedono un ricovero in terapia intensiva neonatale. Chi sono i beneficiari delle cure palliative? In pratica tutti i neonati che possono rientrare in una di queste tre classificazioni, le condizioni end life dove si identificano delle malattie terminali con aspettativa di vita inferiore alle 24 ore, condizioni life limiting che sono quelle situazioni cliniche che non sono curabili, malattie genetiche complesse per danni neurologici oppure malattie croniche progressive che possono ridurre le aspettative di vita sebbene non si possa quantificare la durata di vita e infine le condizioni life threatening, quelle patologie o condizioni cliniche che hanno possibilità sì di guarigione, ma che hanno anche una possibilità di morte precoce qualora la terapia che noi attuiamo e che è la migliore disponibile non dovesse riuscire, non dovesse cioè fallire. È importante che noi eseguiamo un monitoraggio costante di queste condizioni perché come abbiamo sentito prima ci può essere una variazione, è un processo dinamico, non è un processo statico, che può richiedere anche una nostra modifica di comportamenti. Scorrendo rapidamente i neonati che appartengono alle varie categorie, i neonati con anomalie congenite complesse o multiple, incompatibili non con la vita, ma con una vita prolungata e anche qui è un discorso come ben immaginate relativo, in cui la terapia intensiva neonatale, che pure noi eroghiamo, non influirà sull'esito a lungo termine. Prototipi di queste categorie sono i problemi genetici, le trisomie 13, 15, 18. Abbiamo sentito prima come in due paesi europei importanti le trisomie 21 non sopravviveranno più. Diciamo che in questo senso io non l'ho proprio messa la trisomie 21 perché di fatto è considerata per noi in Italia una normalità. Più difficile sono le proniosi per queste patologie come la trisomia 13, 15, 18. E anche qui abbiamo detto che noi non dobbiamo parlare per a priorismi, ma dobbiamo essere sempre come medici, scienziati, dobbiamo basarci su quella che è l'evidenza. E ci sono evidenze di come anche neonati affetti da trisomia 18 possono sopravvivere e diventare bambini, l'ha detto anche qualcuno che mi ha preceduto. Un capitolo a noi molto cari come neonatologi sono i neonati alla soglia della vitalità, con età gestazionale inferiore alle 22 settimane. 22 settimane vuol dire poco più di 5 mesi. Sappiamo tutti che la durata di una gravidanza normale è di 9 mesi, quindi quando nasce il neonato di 5 mesi, poco più di 22 settimane, è come se ci trovassimo di fronte al neonato che ha passato solo metà del suo tempo in utero e quindi tutti i suoi organi non sono sviluppati. Anche su questo è un aspetto molto molto delicato per citare anche quei due stessi paesi o anche altri del nord Europa, non è garantita la sopravvivenza con un supporto proattivo di neonati al di sotto delle 24 settimane. Quindi è una situazione molto molto delicata. Anche i neonati che non rispondono all'intervento di terapia intensiva e che mostrino cioè un deterioramento nonostante tutti i nostri sforzi oppure che possono trovarsi in una condizione life-treatening per un evento acuto potenzialmente letale, ovviamente non risponderanno a tutti i nostri tentativi di rianimazione e quindi potrebbero shiftare verso una situazione di cure palliative. Ultima categoria sono quei neonati con esiti del danno del sistema nervoso centrale o esiti neurosensoriali che possono essere esiti di una grave prematurità o essere anche esiti di malattie genetiche del sistema nervoso centrale. E a questo proposito è importante perché esistono queste traiettorie di cura cioè un neonato o un feto abbiamo sentito prima a cui viene fatta una diagnosi di patologia complessa nascerà e nascerà in un ospedale in cui potrà essere accolto e ricevere le terapie anche le più intensive che non sono più configurabili o non sono solo configurabili come un accadimento terapeutico. Quando 30 anni fa diciamo c'era una... Noi neonatologi venivamo informati della possibile diciamo nascita di un neonato affetto da sindrome complesse o con cromosomopatia si pensava a non fare nulla cioè ad aspettare o ad accompagnare. Bene, questa cosa per quello che abbiamo sentito non è più giusta, non è più corretta, non è più etica e quindi noi ci prepariamo a un percorso che può essere molto complesso che comincia con la terapia intensiva neonatale e poi proseguirà in terapia intensiva pediatrica potrebbero essere bambini lungodegenti noi abbiamo tutt'oggi in reparto di terapia intensiva e subintensiva neonati o meglio ex neonati che sono ormai bambini di 6-12 mesi di età proprio perché sono neonati bambini affetti da patologia molto complessa per cui anche la domiciliazione non è semplice quindi diciamo che su questi due ambiti noi dobbiamo lavorare anche con l'aiuto di una migliore organizzazione della salute post nascita e post ospedaliera in pratica quali sono i principi generali che comunque devono farci sempre diciamo rappresentare un punto importante perché come abbiamo sentito e come spero di avervi spiegato è un po' difficile passare dall'atteggiamento proattivo senza con il rischio reale di scadere poi nell'accanimento terapeutico è per questo che è imperativo ed è fondamentale esaminare caso per caso ogni neonato tenendo conto di questi tre aspetti della sacralità della vita del rispetto della persona e della dignità della morte i criteri di giudizio devono basarsi sulla considerazione sempre della adeguatezza medica ed etica se cioè ogni atto che noi facciamo è proporzionale a quella che sono le aspettative di guarigione o di miglioramento della vita di un neonato e le scelte terapeutiche devono sempre preservare dal dolore e dalla sofferenza preservare il neonato da trattamenti inutili o perfino dannosi e anche preservare il neonato da trattamenti che potrebbero solo prolungare il processo del morire violando così la dignità della morte e ovviamente bisogna sempre preservare la famiglia parlando e comunicando con loro in pratica per noi neonatologi ci troviamo di fronte a una situazione molto difficile perché da una parte c'è il rischio di desistere cioè di eseguire un abbandono terapeutico non motivato dall'altro quello di insistere rischiando quindi l'accanimento terapeutico dobbiamo in qualche modo prevedere abbiamo imparato anche con l'aiuto del servizio di bioetica clinica ha una terza possibilità che è quella di accompagnare erogando cure palliative laddove per cure palliative non sono cure senza senso cure per la terminalità perché questo è un concetto che dobbiamo prima di noi noi stessi modificare in questo senso il documento condiviso di orientamento ci aiuta perché ci mette noi tutti operatori sanitari ci mette insieme ci mettiamo attorno a un tavolo e mettiamo sul piatto tutte le possibilità e cerchiamo di garantire o di promuovere un processo di cura che sia il più possibile corretto ed eticamente accettabile essendo consapevoli che le cure palliative non rappresentano un singolo evento ma un cammino condiviso all'interno di un gruppo non solo multidisciplinare ma soprattutto interdisciplinare in cui non c'è una figura dominante ma ci sono tante persone non per niente ci sediamo sempre attorno al tavolo a un tavolo rotondo che non è proprio per garantire l'equità di tutti i partecipanti da un punto di vista pratico mi avvio alla conclusione le cure palliative neonatali devono essere individualizzate e soprattutto da un punto di vista pratico devono garantire l'analgesia per la prevenzione del dolore abbiamo sentito che il peto comincia fin dalla sedicesima settimana a sentire dolore ci sono le strutture anatomiche e quindi questo è una cosa fondamentale per evitare qualsiasi tipo di stimolazione che possa indurre dolore o stress o se noi decidiamo come possiamo decidere di erogare un percorso di terapia intensiva mettersi nelle condizioni di eseguire e somministrare un'adeguata terapia analgesica farmacologica abbiamo tante scale del dolore per misurare il dolore e per quindi garantire una analgosidazione efficace ai neonati dobbiamo garantire un sopporto respiratorio che può essere invasivo con il tubo con le macchine o anche non invasivo con interfacce meno critiche dobbiamo garantire una nutrizione e un'idratazione e soprattutto anche sottoporre eventualmente i neonati a interventi chirurgici che non sono ancora una volta sproporzionati ma fanno parte di una diciamo corretta somministrazione anche con interventi chirurgici invasivi per migliorare la qualità di vita di questi neonati a corollario di questi le cure palliative neonatali si esticano anche con altri interventi come fisioterapia terapia posturale gestione delle secrezioni terapia di supporto emodinamico terapia trasfusionale è ovvio che noi possiamo in qualsiasi momento proprio perché ci troviamo di fronte a un processo dinamico dobbiamo saper cogliere quando ci troviamo in una situazione di terminalità quando cioè siamo ragionevolmente certi che la vita di quel neonato è mantenuta artificialmente in vita senza alcuna chance di recupero funzionale autonomo quello che si configura appunto come condizione fisica di terminalità ancora una volta la legge ci viene in aiuto dicendo che è fondamentale comunicare al bambino alla famiglia supportare la famiglia e eseguire programmi di supporto al lutto la comunicazione l'abbiamo detto è fondamentale dedicare del tempo comunicare non va affatto sbrigativa in maniera sbrigativa ma richiede tempo richiede una dignità di questo aspetto e soprattutto anche una conoscenza a livello universitario si sta cercando di sottolineare l'importanza di prevedere dei corsi di comunicazione all'interno del curriculum di uno studente di medicina e non solo proprio perché non è un aspetto secondario tutti gli operatori sanitari devono sapere devono conoscere ma devono anche parlare altrimenti quel rapporto che si dice medico paziente è vero solo sulla carta noi per fare questo abbiamo bisogno anche c'è chi più è più facilmente e per per sua qualità portato a parlare ma questo deve essere un must non ci possono essere operatori sanitari che sanno comunicare benissimo e cooperatori sanitari che sono magari bravissimi ma che non sanno comunicare bisogna avere sempre tutti gli elementi della diagnosi e delle condizioni di terminalità colloquiando con i genitori e dando anche il tempo al genitore di maturare perché non è facile noi non possiamo solo comunicare al meglio delle nostre conoscenze ma dobbiamo dare un tempo anche ai genitori l'abbiamo sentito fin da da tutti un po' che la speranza è fondamentale la speranza è presente in tutti i genitori anche nei genitori che sanno di avere un feto o un neonato con una grave patologia la speranza si traduce anche in una possibilità che può affivolirsi fino a quando noi arriviamo a comunicare che non possiamo erogare terapie che potrebbero configurarsi con l'accanimento terapeutico bene in quei momenti il genitore deve comprendere deve avere il tempo e deve avere anche bisogna rispettare questo anche perché comunque ce lo dice ancora una volta la legge anche il lavoro di assistenza al fine vita per i neonati e alle loro famiglie è molto intenso e richiede sempre un colloquio e una interdisciplinarietà e per finire come vi dicevo anche il prematuro il prematuro non è configurabile come un neonato affetto da patologia complessa ma il neonato la prematurità è una malattia perché la prematurità può configurarsi come un fattore di rischio per patologie acquisite non ha non ha torto l'OMS definisce tutti gli sforzi per ridurre la prematurità e ridurre le complicanze della prematurità come un obiettivo sostenibile quindi in questo senso il prematuro come vedete può andare incontro a grave neurodisabilità né più né meno di quegli neonati che hanno per patologia malformativa o patologia complessa congenita quindi è logico che noi come intensivisti dobbiamo fare tutti gli sforzi per prevenire le complicanze ma non ci riusciamo sempre e quindi proprio perché gli esiti a lungo termine del prematuro sono configurabili come esiti di neurosviluppo molto alterato anche qui noi sappiamo che le cure palliative per gli esiti della grave prematurità hanno come obiettivo la preparazione la formazione dei genitori e l'accompagnamento nel percorso che devono intraprendere con il loro figlio una volta dimessi dalla TIN vedete che il neonato prematuro per le sue caratteristiche può andare incontro a tutta una serie di alterazioni di vari sistemi vari organi di sviluppo che determinano tutta una serie di patologie che sono tipiche della prematurità tutte queste patologie che qui vedete come acronimi ROP retinopatia della prematurità esiste una broncodisplasia della prematurità sono tutte patologie caratteristiche che noi cominciamo ad affrontare fin dalla degenza in TIN e che richiedono anche al follow up tutta una messa in atto di strategie che richiedono la consulenza polispecialistica e ancora una volta anche qui è un team interdisciplinare ovviamente e vado a concludere è fondamentale il ruolo della riabilitazione i programmi di intervento riabilitativo precoce e continuo anche dopo la dimissione dei neonati e famiglie costituiscono la migliore premessa per cambiare gli esiti di una nascita gradamente pretermine e vedete queste sono delle foto a me molto care in alto al centro c'è questa bambina si chiamava Tegelina che forse è la neonata di peso più basso che sia nata almeno nella nostra fondazione pesava 320 grammi e qui vedete i disegni fatti dalla famiglia di una bambina che purtroppo non ce l'ha fatta e deceduta in terapia intensiva nonostante questo e questo sottolinea l'importanza della comunicazione di stabilire un contatto con i genitori i genitori la mamma era molto brava a disegnare lei ha cercato di memorizzare ogni momento della degenza di questa loro figlia con delle vignette che hanno in qualche modo aiutato anche a superare il lutto e superare questa brutta esperienza così come al centro c'è la foto di un neonato ex prematuro che è andato a casa con la tracheotomia questo per dire come anche dopo la degenza in TIN il post di missione rappresenta un percorso molto molto complesso e giuro che finisco a sintesi di tutto quello che abbiamo detto volevo condividere con voi la storia di Chiara che è un neonato di 34 settimane nata il 14 di febbraio che aveva una diagnosi prenatale di trisomia 18 alle ecografie prenatali era stata diagnosticata una cardiopatia la bambina comunque aveva seguito insieme alla famiglia il percorso dell'ospis era nata da parte otocico improvviso per travaglio quindi noi avevamo programmato un taglio cesario Chiara aveva deciso che voleva nascere prima alla nascita Chiara è stata in buone condizioni come vedete senza tubo aveva solo un po' di dispenea per cui è stata trasferita comunque in terapia intensiva in terapia intensiva ha avuto quelle che sono gli esiti di una prematurità una insufficienza respiratoria la bambina è stata intubata e questo anche qui lo dico perché la trisomia 18 potrebbe configurarsi in una malattia complessa in cui forse non esiste l'abbiamo definita come una malattia in cui non c'è una prospettiva di vita duratura e quindi ci siamo posti fin dall'inizio su che strada metterci è una strada di correttezza di tutti gli interventi che facciamo la possiamo intubare perché anche l'intubazione è un atto invasivo oppure configuriamo un accanimento terapeutico abbiamo deciso insieme operatori sanitari e famiglia di andare avanti la bambina è stata intubata è stata poi estubata e posta in C-PAP ma ha avuto tutta una serie di complicazioni al punto che comunque sono stati fatti non uno non due ma tre interventi chirurgici che sono stati tutti ritenuti idonei proporzionati nonostante avessimo una diagnosi di trisomia 18 ovviamente ci sono state tante complicazioni comprese scusatemi quella cardiologica è importante capire come sia importante nella gestione favorire la vicinanza mamma papà neonato in terapia intensiva pur essendo un ambiente molto sofisticato con macchinari monitoraggi continui noi favoriamo cioè noi garantiamo l'apertura H24 e garantiamo che mamma e papà siano insieme al loro figlio anche se in condizioni gravi come in questo caso e quindi diciamo che Chiara è andata avanti con la nostra grande anche meraviglia se non che poi all'ultimo momento ha avuto un arresto cardiorespiratorio e non ce l'ha fatta quindi diciamo Chiara è stata con noi tre mesi è stata insieme ai genitori e ci ha insegnato tanto ci ha insegnato anche che appunto non esistono delle etichette non perché lei aveva una trisomia 18 e non solo aveva una cardiopatia ma aveva anche una trisia esofagea che è un'altra grossa patologia doveva per forza di cose essere condannata noi abbiamo scelto di garantire di dare a lei le stesse opportunità che daremo a neonato cosiddetto normale e questo non è un discorso scontato penso che sia stato importante e ci sia ci abbia dato la possibilità di diciamo aprire anche la nostra mente a nuovi orizzonti che fino a qualche anno fa non erano nemmeno pensabili grazie ringraziamo anche un po' commossi il professor Vento per questo suo bell'intervento ecco con la immagine di Chiara che mi pare che sintetizzi al meglio ogni altra parola che si potrebbe aggiungere in merito noi andiamo a concludere questa mattinata intensissima e ricchissima di cose belle che ci siamo dedicati e vedete che nella scaletta sarebbe stata prevista un intervento di Emma Daquino la giornalista del Tg1 che appunto ha prestato la sua voce per il doppiaggio della Rosa Blu che è un proprio un film sulla sindrome di Down ecco Emma si scusa tanto di non poter essere presente ma lunedì mattina sta preparando uno speciale che andrà in onda lunedì mattina alle 10 appunto sul Tg1 uno speciale sulle stragi di Capaci dove verranno ricordati Falcone Borsellino e quindi ecco le hanno dato questo incarico con questo impegno che veramente la tiene molto molto presa in queste ore e prima di augurare a tutti buon pranzo e di invitarvi cortesemente a rientrare in aula tra un'ora esatta quindi alle 14 e 30 così cerchiamo di non sforare sulla tabella di marcia del pomeriggio vorrei chiedere al professor Noia Anna Luisa Lateano e ad Angela Bozzo se vogliono aggiungere ancora una parola a conclusione della mattinata ma solo solo due parole di ringraziamento ai colleghi che sono stati splendidi veramente li voglio ricitare Marco De Sandis Luca Massimi Daniela Visconti Giovanni Vento e Marcella Zollino e poi lo farò anche nel pomeriggio mi sento onorato di lavorare con persone che hanno fatto un'azione di comunicazione di quella che è la forza della medicina basata sull'evidenza questa è la cosa più importante detto in un ambiente universitario molto importante non sono parole ma sono evidenze e sono esperienze e soprattutto poi volevo ringraziare anche Piero Francesca e anche la dottoressa Paola Severini per quella testimonianza di bellezza di condivisione e di sforzo pur nella sofferenza nel comunicare il bene ecco stamattina abbiamo declinato soprattutto una frase come una sentenza può diventare una speranza come una ferita può diventare una feritoia non solo personale ma anche di gruppo di gente perché la chiave di tutto è questo lavorare insieme questo aumentare competenze insieme con l'unico scopo di fare un servizio alla persona umana e anch'io purtroppo ho un gran mal di testa scusate però anche se la testa mi scoppia ma mi scoppia davvero il cuore di gioia perché ho sentito delle cose fantastiche noi le conosciamo però sono ancora più contenta di averle oggi sentite e di averle portate all'attenzione anche di Emilia perché è importante è importante che queste cose vengano conosciute diffuse sempre per portare un maggior servizio alla vita in particolare alla vita fragile ecco poi sentiremo ancora il resto dopo per il momento posso solo dire che siamo davvero davvero contenti di questa mattinata allora Angela mi faccio accenno di andare a pranzo e la sentiremo dopo buon pranzo a tutti cominciamo con subito allora a riprendere questa terza sessione vi ricordo che stiamo proprio guardando più da vicino questo terzo aspetto dell'hospice l'hospice per i natali come modello di integrazione interdisciplinare e multiprofessionale e abbiamo visto questa mattina già si sono avvicendati diversi specialisti che ci hanno proprio cominciato a dare l'idea di questa multidisciplinarietà e così continueremo anche nel pomeriggio a sentirne degli altri anche di diverse figure professionali non mediche ma la prossima redazione invece insiste su un argomento che direi più di carattere organizzativo non meno importante di questi aspetti medico-scientifici perché ecco quando nasce un modello di gestione di questo tipo oltre a essere dirompente come diceva Monsignor Giuliori questa mattina è anche rivoluzionario da un certo punto di vista nei processi organizzativi di una grande azienda ospedaliera o comunque di un policlinico come questo e allora ecco tutte le attività che si fanno vanno a un certo punto in qualche modo formalizzate in quello che viene chiamato un percorso clinico assistenziale e avere un percorso clinico assistenziale non è un fatto burocratico semplicemente così all'interno di un contesto sanitario ma diventa anche quella corsia che facilita l'accesso a tutte le coppie che hanno un certo tipo questo tipo di problematica quindi ecco la rilevanza di questo aspetto organizzativo in termini proprio poi di fruizione del servizio è grandissima pertanto con questa consapevolezza ci mettiamo in ascolto del professor Antonio Giulio De Belvis che ci parla del percorso clinico assistenziale per maternità con patologie fetali ad alto rischio e terminali eccellenza medica e umanizzazione delle cure come si possono coniugare dentro appunto l'eccellenza anche di un processo organizzativo Sì grazie se mi permettete saluto il professor Noia che è a casa ci siamo sentiti prima il mio ruolo difficile oggi perché voglio dire riprendere dopo la pausa post-prandiale in questa giornata calda non è semplice spero di non annoiarvi se qualcuno comunque diciamo vuole un poettino abbassare diciamo la palpebra va bene insomma non ce la prendiamo ci sta è vero ringrazio la nostra moderatrice perché ha detto delle cose molto appropiate non so quale sia il suo profilo ma dobbiamo considerare comunque una collaborazione perché ha fotografato perfettamente quella che è la situazione che cos'è un percorso clinico assistenziale è un insieme di regole è un piano come leggete qui che è dedicato alla gestione di persone che hanno un problema di salute la maternità non è un problema di salute è chiaro che qui entriamo diciamo in una fattispecie abbastanza particolare però vedete che c'è una parola chiave qui che è evidence based cioè qui noi non ci inventiamo niente ci inventiamo gli aspetti organizzativi che sono una vera sfida considerando anche spesso la complessità diciamo delle persone che andiamo a considerare però applichiamo la scienza e allora su questo naturalmente è importante faccio un richiamo biografico prima stavamo parlando amabilmente con una signora che viene dalla mia terra e io per dieci anni della mia vita tutti i giorni mi affacciavo da una casa sul porto a Brindisi naturalmente non vedevo questo perché questa fotografia si riferisce almeno a 60 anni prima però questa qui era la valigia delle indie la valigia delle indie era dalla metà dell'ottocento fino ai primi anni del novecento era una strada era una rotta che da Londra fino a Bombay facevano le merci e le persone allora a un certo punto il treno arrivava a Brindisi e lì c'era un traghetto che portava poi diciamo verso la Grecia in alcuni casi anche verso la Turchia e allora io ero piccolo avevo dieci anni e mi ricordo che quest'idea di tracciare le rotte dei viaggi era una cosa che mi aveva sempre incuriosito e faccio questo faccio questo con i miei colleghi con i miei collaboratori noi tracciamo le rotte poi è chiaro che sono delle rotte che altri esploratori hanno già definito e chi sono questi esploratori i scienziati le persone che ci hanno detto quali sono le indicazioni per la diagnostica per la terapia per la riabilitazione e poi queste rotte avranno dei tour operator che sono coloro i quali fondamentalmente soprattutto i medici del territorio o i medici di base che indirizzano le persone verso questa rotta e che appunto vengono dalle diverse realtà con questo ruolo importante che il cuore una goccia svolge come sportello è rilevante e poi ci sono quelli che si occupano naturalmente della logistica come deve andare il treno i pasti che vengono serviti ma queste sono altre persone noi tracciamo la rotta e poi facciamo un'altra cosa importante vediamo come vanno come va il viaggio cioè io mi occupo non soltanto dei percorsi chinoassistenziali ma anche della valutazione dei performance perché è chiaro che devo avere il polso della situazione allora questa valigia delle indie che è dedicata alle persone con alle maternità bello questo termine qui è un'esperienza guardo la dottoressa Rizzo che ci ha lavorato diciamo in prima persona su cui abbiamo avuto un lavoro facile perché l'equipa assistenziale è fatta di persone straordinarie appassionate dei veri professionisti e molte delle attività delle iniziative di miglioramento erano già diciamo abbastanza ben congegnate però non vi nascondiamo che ci ha molto coinvolto emotivamente nonostante io sia un medico scafato e in questa fondazione abbia realizzato più di 60 percorsi sono circa 10 anni che mi occupo di questo però questo percorso ci ha lasciato diciamo ci ha toccato ci ha toccato per le persone e per le situazioni e tecnicamente come diceva la moderatrice noi dobbiamo capire quali sono le condizioni in base alle quali nelle organizzazioni e il gemelli è un'organizzazione molto complessa si possano realizzare i percorsi i punti sono 6 adesso li vediamo diciamo rapidamente uno l'abbiamo detto strumenti evidence based cioè le decisioni che vengono prese con le famiglie quindi adesso poi vedrete quali sono anche i momenti formali in cui nel documento condiviso vengono prese queste decisioni non si inventano niente applicano le migliori evidenze di letteratura cioè applicano le risorse scientifiche tecnologiche disponibili che la scienza mette a disposizione vostra delle famiglie di voi che siete operatori interessati che naturalmente siete coinvolti in questo percorso questo da solo non basta perché bisogna anche tenere conto dell'expertise cioè dell'esperienza delle capacità del singolo professionista e soprattutto torneremo alla fine su questo sulle caratteristiche della persona a cui è rivolto il percorso che non è in questo caso una sola persona ci sono le famiglie e quindi capite che bisogna sempre naturalmente rispettare i bisogni i valori che sono naturalmente un tema su cui come vi dicevo insisteremo insisteremo dopo e infatti è così tanto evidence based questo percorso che le condizioni per essere presi in carico sono tre e sono molto ben definite e le vediamo insieme la prima è che la richiesta deve venire dalle famiglie noi non imponiamo niente la seconda è importante e anche questa è una decisione di rispetto e che come leggete noi dobbiamo favorire i processi assistenziali già esistenti cioè se una persona è seguita da un'equip di ginecologi all'interno dell'organizzazione questo percorso deve rispettare affiancando naturalmente l'iter che è stato già prefigurato eventualmente correggendolo però è sempre fatto in un ambito di condivisione la terza cosa che è ancora più importante e qui citiamo il samaritanus bonus che probabilmente sicuramente stamattina è stato già richiamato e che non vogliamo fare in alcun modo accadimento terapeutico né abbandono terapeutico quindi questi sono tre paletti no capite che sono fondamentali per entrare in questo percorso e questa diciamo è il frutto del lavoro di mesi no dottoressa Rizzo no in cui ci siamo confrontati con gli altri professionisti e poi vedrete insomma i contributi di tutti quelli che se non hanno parlato interverranno comunque nella giornata di oggi i punti cardine sono questi prima di tutto la funzione di presa in carico lo sportello noi dobbiamo essere certi che tutte le persone del nostro sistema sanitario abbiano una facilità nell'accesso a questo percorso con le tre condizioni che abbiamo definito e quindi poi vedete il percorso clinico accanto questa colonna arancione che è un altro percorso che si va naturalmente a intersecare con quello precedente che è quello fatto con questa proposta di affiancamento che è un affiancamento spirituale ma anche molto pratico no di aiuto alle famiglie attivazione dei servizi assistenziali solidarietà da parte dei nostri ospiti no dell'associazione naturalmente in corona doccia e poi vedete decliniamo dei momenti che sono stati richiamati la multidisciplinarietà che cosa vuol dire multidisciplinarietà è una cosa importante che naturalmente gioca molto anche sulla trasparenza delle idee perché quando si fa un percorso clinico assistenziale in pratica se ne fanno tre il primo è la fotografia dell'esistente oggi prima di attivare questo percorso al gemelli come viene gestita la maternità ad alto rischio eccetera 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 allora noi facciamo una fotografia che si chiama percorso effettivo quando tu fotografi e vedi l'esistente già capisci le cose che devi migliorare che in effetti in questo percorso non erano tantissimi anzi erano proprio poche fotografo l'esistente vedo oggi la rotta come va e già questo è un aspetto importante e poi dici se io vivessi nell'iperuraneo cioè se tutte le evidenze di letteratura fossero disponibili come lo dovrei fare questo percorso quali professionalità dovrei coinvolgere in che modo devo prendermi carico delle persone e questo si chiama percorso di riferimento tra il dire e fare tra il percorso effettivo e quello di riferimento nasce la proposta di un percorso che è pragmatico che secondo le scienze manageriali io sono un medico però ormai come capite da dieci anni mi occupo di organizzazione di management che è una branca naturalmente della medicina e costruisci il percorso obiettivo cioè dici io a partire da il percorso che sono presentato a marzo a marzo 2022 a partire da domani che impegno mi do e allora capite che ci sono delle azioni che dobbiamo fare e che stiamo già stiamo già stiamo già realizzando e qui vi farò vedere che cosa in che cosa consiste però la carta cioè il percorso sulla carta non serve a niente saltiamo su un altro problema di salute infarto miocardico così parliamo di una cosa che non vi coinvolge che non ci coinvolge allora se uno confronta i migliori ospedali americani che hanno un tasso di mortalità per miocardio fino al 14% e i peggiori ospedali americani quelli che hanno un tasso di mortalità fino al 21% in tutto differiscono tranne nel fatto di avere un percorso cioè avere la carta in cui tu hai definito le regole e non metterle in pratica è quello che non distingue i migliori dai peggiori e questo che cosa vuol dire che gli strumenti per metterle in pratica vedete sono evidenziati in rosso prima di tutto la direzione aziendale ci deve credere e ci devono credere anche i responsabili dei dipartimenti di unità operative complesse perché se si scrive una cosa e poi se ne predica un'altra è chiaro che tu stai dando un segnale schizofrenico alla tua organizzazione bisogna individuare e questi li avete sentiti parlare o li sentirete parlare dopo dei champions come dicono quelli delle scienze manageriali cioè delle persone che portano avanti diciamo la lotta tutti i giorni per applicare le regole del percorso e quindi organizzano le unioni multidisciplinari e si fanno carico di sentire gli altri consulenti e definiscono il documento condiviso e tutti questi aspetti allora questi sono i campioni dell'organizzazione che realizzano il percorso e poi è importante l'intervento degli infermieri perché naturalmente non soltanto i medici o diciamo i manager hanno il posto la situazione come loro e poi naturalmente bisogna quando le cose non vanno bene non bisogna applicare la regola che è tipica diciamo di una cultura retrogata gli inglesi dicono blame and shame condanna diciamo e disprezzo nei confronti di chi non ha fatto le cose che devono andare ma a ragionare sugli errori perché sugli errori che le organizzazioni crescono vedete è dimostrato da un articolo che è uscito nel maggio del 2019 su uno dei principali giornali medici medici medical journal e capite cioè questi aspetti sono aspetti che se funzionano sono più efficaci di un farmaco allora io non ho evidenze ancora sull'ospice perché naturalmente anche se il gruppo di lavoro ci lavora molto non ci sono queste evidenze io non le ho trovate però se saltiamo su un altro ambito la gestione del tumore mammario questo articolo sempre del medici medical journal del 1996 cioè sono passati più di 25 anni lo dice un percorso assistenziale multidisciplinare è più efficace di uno dei farmaci più efficaci la sopravvivenza a 5 anni è del 9% a 10 anni dell'8% cioè se tu avessi la disponibilità di un farmaco non riusciresti ad avere questi risultati e lavorare in un team multidisciplinare è una cosa impegnativa come vedete da questo studio lo fanno gratis non c'è come dire un gettone di presenza per partecipare ai team multidisciplinari ma ci credono molto perché se vedete da questa slide loro sanno che questo migliora la qualità delle cure permette uno spazio di condivisione con la persona assistita addirittura migliora gli aspetti quindi la multidisciplinità serve funziona e chi fa parte del team multidisciplinare come avete sentito stamattina è molto diciamo orgoglioso di fare questo ma c'è la parte che vi dicevo della valigia delle indie a un certo punto ma questa rotta funziona o no e questo è il mio ruolo il mio ruolo è quello di organizzare inserire gli indicatori di questo percorso in un sistema di monitoraggio che periodicamente ci dice come vanno le cose allora controllare che la rotta sia quella giusta è un mio compito e come vedete io lo faccio ormai da 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 un po' di tempo e se uno va a valutare i criteri in cui gli ospedali del mondo sono valutati in una classifica che gli addetti ai lavori conoscono bene i news qui a Gemelli la conoscono benissimo perché siamo risultati più in ospedale italiano il trentasettesimo al mondo quindi siamo contenti però non è tanto questo quello che voglio dire ma che i criteri in base ai quali gli ospedali diciamo sono considerati di buona performance sono tre il primo è la reputazione che la struttura ha e sono 30.000 gli ospedali al mondo valutati in questa classifica in una comunità di 80.000 tra medici manager e infermieri quindi la reputazione che tu hai diciamo nella comunità di riferimento l'altra cosa è come vedete l'esperienza del paziente cioè a parte i risultati clinici ma la gente che cosa pensa della cura che riceve può andare bene non può andare bene però è chiaro che deve essere un aspetto oggettivale e poi il terzo sono questi key PIs che vuol dire key performance indicators quindi sono degli indicatori in base ai quali si valuta la performance della struttura che lo sapete forse ma se non lo sapete segnatevelo è da marzo di 2021 uno strumento potentissimo a disposizione dei cittadini cioè se voi volete sapere com'è la performance di un ospedale andate sul sito che si chiama PNE programma nazionale esiti e accedete liberamente e vedete quali sono le performance per i problemi di salute non il singolo ospedale questa questa è la raffigurazione dei gemelli vedete ci sono aree verdi quindi vuol dire che le cose vanno bene in altre tanto per per spiegarmi sono soprattutto esiti di trattamento dopo la dimissione 30 giorni quindi può essere che sia andata anche male qualcosa nella gestione territoriale ci può stare è qualche cosa a cui i nostri professionisti noi siamo molto attenti infatti vedete che noi abbiamo un sistema di monitoraggio di reportistica che ogni tre mesi poi quando siamo cinque minuti ok ci può permettere di valutare la nostra la nostra performance queste sono le azioni di miglioramento del percorso il team assistenziale la stanza della famiglia è importantissima su cui già il cuore è in una goccia intervenuto diciamo in maniera significativa che però va perfezionato da un punto di vista organizzativo perché la famiglia possa accogliere il neonato che probabilmente in quelle ore in cui il signore diciamo il destino gli ha dato di vivere spostare con la madre e la famiglia si raccoglie diciamo in questo momento ma ne avete sentito parlare il documento condiviso che non è non deve essere soltanto una cosa tra pochi intimi ma deve essere poi come leggete inserito nella cartella assistenziale nel sistema informativo e quindi questi sono gli indicatori ma io volevo saltare su una cosa che mi sta molto a cuore è che la differenza tra come noi le cose le disegniamo sulla carta e come le persone le percepiscono perché oggi si parla di comunicazione quindi volevo dare anche io il mio piccolo contributo in teoria un percorso è una cosa molto semplice perché nel momento in cui tu definisci queste regole chi ha un problema diciamo come questo della maternità alto rischio che fa si rivolge attraverso il medico curante allo sportello arriva l'ambulatore di percorso farà una diagnostica verrà condiviso un documento un piano assistenziale verranno fatti i trattamenti la persona se le cose vanno bene viene restituita come dire alla rete altrimenti ci sarà diciamo la risoluzione l'evoluzione il follow up questo è diciamo tecnicamente un percorso ma in pratica le cose non vanno così perché soprattutto sugli aspetti iniziali le persone sono sole nella scelta cioè chi ha un problema di salute chi sente che qualcosa non va bene non sa che pesci prendere per cui vedete o vai ti riferisci alla rete degli amici dei parenti o vai a rivolgerti a qualche medico amico o vai su internet nei blog eccetera oppure come vedete vai dal medico di base e cominci a girare vado da questo specialista poi vado da quest'altro e poi che cosa fai poi probabilmente ti verranno prescritti degli esami e tu però non sai dove come quanto a quale costo arriverai e poi finalmente qualcuno ti potrà aiutare ad avere un'interpretazione integrata e speriamo che si arrivi a una diagnosi e poi a un piano diciamo assistenziale una stadiazione per alcuni tipi allora questo è una cosa che non è diciamo nelle corde di chi vorrebbe facilitare l'accesso alle cure infatti vedete le percussioni sono importanti perché altro che decisioni evidence based altro che tempestività altro che appropriatenza altro che scelte eticamente accettabile e chiudo perché la sfida oggi è un'altra la sfida è quella sul valore perché le persone nel 2022 la qualità dell'assistenza l'assenza di complicanze l'intervento chirurgico che vada bene lo danno quasi per scontato soprattutto da una struttura come la mia come la nostra chiedono di più chiedono come vedete qualcosa che tocca la loro qualità della vita cioè chi lasciamo stare adesso l'ospice per i Natale chi fa un intervento per l'anca dà per scontato che l'intervento vada bene che non ci siano complicanze che non ci sia febbre che non ci siano diciamo problemi vuole vuole tornare a camminare o a ballare con la propria mogliettina la notte vuole dormire perché non sopporta il dolore accetta dei farmaci che però non siano troppo pesanti vuole che la propria qualità della vita sia diciamo adeguata quindi finisco per dirvi che la frontiera su cui già concretamente ci stiamo muovendo è quella del valore che mette in riferimento gli esiti quelli clinici la performance sui costi perché è chiaro che le nostre organizzazioni vanno avanti se gli interventi sono sostenibili ma vedete aggiunge tra parentesi quello che è importante per il paziente allora questa è una cosa importante ed è l'ultima slide molto difficile da fare perché è chiaro che le organizzazioni che sono value based sono delle organizzazioni che su questo concetto del valore devono trovare una certa convenienza perché non possono andare in perdita ma non soltanto economica anche di entusiasmo di passione allora io mi permetto di suggerire questi quattro aspetti il primo è come vedete che il valore deve essere sempre più parte del bagaglio formativo e professionale quindi benvengano questi incontri benvenga anche il fatto che i medici confrontano con gli esperti della comunicazione le famiglie perché deve essere come dire un sapere condiviso che su questo si facciano delle alleanze il cuore una goccia fa questo alleanze tra i medici tra le famiglie tra i pazienti eccetera che sul mio versante come leggete le modalità di finanziamento vadano a valorizzare il percorso e non la singola prestazione si chiama bundle payments fino a pensare naturalmente che anche per i gemelli come per l'altra organizzazione sia conveniente anche da un punto di vista delle risorse fare questo e poi scusatemi questi sono i miei valori io sono un professore dell'università cattolica quindi insisto su questo lo so che oggi avete già parlato del buon samaritano allora bisogna continuare a premiare a promuovere queste locande del buon samaritano non lo so se il gemelli riesca a essere locande del buon samaritano su tutti i problemi però vi posso garantire che i nostri professionisti ce la mettono veramente tutti grazie ringraziamo ringraziamo il professor De Belvis che ci ha dato anche questa novità avete sentito il percorso nato formalizzato a marzo scorso quindi proprio una new entry si può dire e soprattutto per questo valore a cui accennava questo valore sociale che si che si aggiunge al valore scientifico e naturalmente anche al valore come finanziamento perché stiamo dentro un contesto aziendale ci muoviamo dentro l'aziendalizzazione della sanità questo non possiamo trascurarlo e quindi ci prepariamo ad ascoltare adesso a proposito di multidisciplinarietà e di multiprofessionalità in questo caso ci prepariamo ad ascoltare la dottoressa Anna Maria Serio psicologa con la relazione il supporto psicologico alle coppie con fragilità prenatali allora ringrazio naturalmente il professor Noia per questo invito ringrazio l'associazione il cuore è una goccia e saluto Angela con la quale più volte abbiamo avuto anche modo di confrontarci su quelle che sono le problematiche essendo anche cofondatrice dell'associazione delle famiglie che un po' seguiamo anche dal punto di vista psicologico diciamo che supportare la maternità oggi è una grande sfida perché chiaramente insomma di pari passo a quelli che sono gli avanzamenti della medicina chiaramente cambia cambiano tutta una serie di cose quindi bisogna tenere presente non solo quelle che sono le dinamiche inconsce che sottendono la ricerca di un figlio ma anche quelle che sono chiaramente insomma le sfide della medicina e chiaramente i cambiamenti anche sociali che ci troviamo a vivere gli ultimi due anni sono stati due anni pesantissimi da questo punto di vista perché chiaramente già di per sé la ricerca di un figlio implica implica tanti cambiamenti tanti sconvolgimenti diciamo che la psicologia si è chiaramente insomma ha sempre tenuto molto in considerazione il fatto del supporto la donna doveva essere supportata soprattutto dalle figure chiaramente di riferimento quindi dalla famiglia dal partner il covid ci ha portato chiaramente a uno stravolgimento di tutto questo perché se da un lato diciamo molte strutture si sono dovute adeguare a chiaramente insomma a prevenire il pericolo del contagio dall'altro abbiamo avuto però anche sempre più l'esigenza di dover anche proteggere la maternità e questo ha portato a un isolamento delle donne e a una separazione dalle coppie questo chiaramente ha aggravato ulteriormente proprio le dinamiche di coppia che sottendono appunto il vissuto della gravidanza e poi chiaramente insomma il formarsi della genitorialità perché diciamo è pur vero che chiaramente insomma la genitorialità non è un qualcosa che nasce a priori è un qualcosa che si forma chiaramente con l'idea di avere un figlio in primis e poi praticamente si plasma con l'avanzare appunto della gravidanza della maternità della donna perché chiaramente insomma l'uomo vive la gravidanza attraverso i cambiamenti del corpo della donna quindi diciamo che questi due anni hanno messo a dura prova molte coppie quindi se prima eravamo attenti fondamentalmente a quelle che erano le dinamiche inconsce che sottendevano appunto la ricerca di un figlio da parte della donna da parte dell'uomo che portavano comunque tutto tutto il loro corredo no? sia dal punto di vista genetico che anche dal punto di vista proprio esperenziale quindi chiaramente insomma con tutto quello che è il bagaglio anche familiare perché poi di solito insomma nelle coppie si è un po' come se la coppia è un po' come se fosse un condominio si è un po' in sei da un lato abbiamo il papà e la mamma dell'uomo e dall'altro abbiamo il papà e la mamma della donna e quindi chiaramente tutto questo confluire chiaramente doveva un po' rimescolarsi e portare a una nuova coppia genitoriale quindi se prima il tutto chiaramente avveniva con poche difficoltà perché comunque c'era anche un'unione proprio fisica e questi due anni chiaramente hanno portato a una separazione per cui chiaramente insomma le difficoltà sono state veramente non poche e ci si è scoperti come diceva anche il papà Francesco insomma non solo tutti quanti più fragili ma chiaramente nel vivere la gravidanza sempre più bisognosi di essere anche supportati di essere contenuti e devo dire che l'essere chiaramente insomma la psicologa di riferimento dell'ario sterita è una vera e propria sfida no? perché chiaramente insomma la gravidanza appunto della maternità costruiscono un periodo di grandi cambiamenti appunto per la donna per la coppia e molteplici appunto risultano le emozioni vissuti psicologici associati all'evento della nascita di un bambino io parlo di diciamo psicologia personalizzata perché chiaramente insomma per poter essere d'aiuto bisogna innanzitutto conoscere appieno quelle che sono le dinamiche appunto che inconsce che sottendono al desiderio di un figlio quindi quindi quello che il formarsi della diade madre bambino e poi successivamente alla triade ma soprattutto chiaramente anche conoscere la coppia quindi conoscere anche l'evoluzione della coppia è importante innanzitutto il momento della namresi non e molte volte mi capita di incontrare le coppie in the hospital che chiaramente insomma di conoscere per la prima volta e poi di accompagnarle per tutto il percorso della gravidanza a volte anche fino in TIN quindi diciamo che è un vero e proprio viaggio che io percorro con loro e in questo viaggio molte volte si matura anche insieme perché la psicologia diciamo studiare psicologia all'università ti dà le basi però non è sufficiente non è sufficiente perché poi come ogni diciamo un po' professione è basata sulla relazione questa è chiaramente si cresce insieme si cresce insieme e chiaramente si anche un po' cambia il tiro a secondo di quella che è anche il contesto che si ha intorno perché chiaramente insomma anche la psicologia si è dovuta adattare negli ultimi anni a quelle che poi sono state le evoluzioni sociali che abbiamo appunto avuto perché chiaramente diciamo anche la stessa ricerca della maternità non è che poi è così scontato quando uno decide di avere un figlio non è scontato che arrivi subito quindi anche lì è una grande sfida perché poi chiaramente insomma la medicina oggi giorno si è spinta sempre di più abbiamo chiaramente insomma tantissime coppie che ricordano alla fecondazione assistita anche in epoca diciamo avanzata con tutte le problematiche che questo comporta prima il professor il professor Vento parlava anche di prematurità oggi giorno ci siamo spinti a chiaramente insomma a curare i bambini molto piccoli ma questo diciamo si paga anche un costo a tutto questo dal punto di vista emotivo perché chiaramente insomma siamo sempre di più alla ricerca del figlio perfetto quello che incarni le migliori qualità della propria famiglia di origine quello che deve essere chiaramente anche un po' esibito che poi chiaramente insomma deve portare avanti quello che è il buon nome della famiglia e naturalmente quando poi in fase chiaramente diagnostica viene fuori una chiaramente insomma una patologia fetale o comunque un qualcosa che un po' mette in crisi quest'ideale che si ha del bambino ideale avviene un vero e proprio lutto no? Perché quel bambino così tanto idealizzato così tanto pensato nella cosiddetta area transazionale chiamata da Winnicott con l'ecografia diventa mio figlio e quindi inizio a realizzare che mio figlio ha un difetto questa per me diventa una vera propria ferita narcisistica una ferita narcisistica che tende poi ad avere dei risvolti sulla coppia sulla famiglia d'origine e chiaramente anche nel rapporto con il bambino stesso quindi diciamo che oggigiorno oltre che considerare come paziente la donna il bambino peto va considerato un terzo paziente che è la coppia la coppia che ultimamente è chiaramente insomma sempre più molto molto diciamo fragile rispetto a un tempo dove chiaramente anche le famiglie erano molto più unite e quindi c'era anche il supporto familiare che riusciva ad essere molto più vicino quindi l'intervento dello psicologo l'intervento dello psicologo si rivela molto importante in quanto appunto mira a facilitare l'espressione la condivisione e il contenimento dei fantasmi nella coppia e la presa in carico dei genitori permette loro non solo di esprimere le difficoltà riguardanti la situazione reale ma anche quelle legate ai significati che attribuiscono soggettivamente a quanto accaduto devo dire che uno degli strumenti che di solito io utilizzo molto è proprio l'ascolto l'ascolto che deve essere un ascolto empatico e attivo non dobbiamo avere paura della chiaramente della tempistica perché chiaramente lavorare in un ambito clinico è molto ben diverso che lavorare in uno studiolo privato per cui però tutto quello che noi riusciamo a recepire da un buon colloquio clinico ci servirà poi in seguito per dare maggiori strumenti alla coppia per riuscire fuori dalla situazione di crisi quello che diciamo la consulenza psicologica quindi andrebbe proposta come intervento di routine in modo tale da essere letta come un'opportunità di sostegno è molto importante che gli operatori sanitari stessi personale appunto medico e paramedico collaborino con lo psicologo per l'individuazione delle criticità per segnalare le criticità e insieme si forma appunto una sinergia importante per aiutare al meglio le coppie vado ancora avanti perché insomma l'importanza dell'accoglienza della cura l'ascolto empatico che è importante vi lascio tutto il materiale poi chi vuole può richiederlo e vado direttamente a una testimonianza che appunto la mamma di eccola qua è la mamma di Chiara la bambina che il professor Vento prima citava e così insomma ho seguito appunto la coppia durante la gravidanza e li ho continuati a seguire in team fino appunto fino alla fine e la mamma di Chiara appunto la signora Giovanna mi faceva testimonianza appunto della della sua esperienza e diceva che entrare in una tinna dopo aver fatto rito è qualcosa di spiegabile un tripudio di emozioni per noi consapevoli della sua problematica avendo passato già tutta la gravidanza in allerta con tutte le informazioni brutte ti dimettono ma il tuo figlio rimane lì in fondo quando stavi ricoverata ti sembrava quasi di averlo vicino però devi tornare a casa quando ti va bene è casa tua ma nella maggior parte dei casi non hai nemmeno casa tua la tua famiglia i tuoi amici provano a dirti qualcosa di carino ma giustamente non sanno nemmeno loro cosa dirti tu nel frattempo non hai voglia di sentire nessuno perché nessuno può capire cosa vuol dire nessuno se non chi vive con te cosa ci vorrebbe io insomma un giorno appunto chiesi all'edico ma per potervi essere d'aiuto al meglio datemi voi degli strumenti datemi voi dei suggerimenti e lei mi mandò questo messaggio chissà io posso dire che dopo aver conosciuto Cinzia poi Giovanna mi ha aiutato a trascorrere i giorni latine con un po' più di leggerezza in più perché non sei sola condividi e ti confidi con chi il tuo dolore lo capisce lo comprende appieno penso che insieme al freddo lo psicologo e i medici ci sia bisogno delle mamme così come dei papà hai bisogno di chi ha vissuto la tua stessa esperienza e poi parli la tua stessa lingua bene io ho cercato di negli ultimi tempi di un po' andare ad attingere queste mamme che ho seguito soprattutto in questo periodo quelle che erano un po' le risorse nascoste in loro e soprattutto a stimolare il sentimento della compassione avere maggiore compassione della propria situazione aiuta anche a chiaramente insomma avere più cura di se stessi e ad essere più sensibili a quello che è il dolore di chi ci sta accanto ovviamente diciamo la self compassione è chiaramente insomma è molto validata anche dal punto di vista scientifico tanto è vero che si è notata una correlazione tra una maggiore self compassione e una minore probabilità di incorrere in psicopatologia e devo dire che sta dando grandissimi frutti perché molte mamme hanno creato soprattutto quelle che ho seguito e che tuttora continuano a seguire quarantina hanno creato un gruppo queste mamme si aiutano tra di loro e hanno fatto della cosiddetta sofferenza una appunto risorsa questa appunto è Giovanna Cardillo la mamma di Chiara Giovanna Tolone la mamma di Samuele e Cinzia la mamma di Andrea queste per me chiaramente insomma sono la mia più grande risorsa perché io quotidianamente attingo tanto da loro e devo dire che il mio più grande strumento è appunto l'ascolto empatico grazie 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 grazie